Nonostante la Xiaomi Mi Band 5 abbia riscosso comunque un gran successo, in molti non sono rimasti pienamente soddisfatti Perché si aspettavano alcune feature che di fatto non sono arrivate e che altre band, altre competitor in realtà hanno iniziato ad integrare Né un esempio l'Amazfit Band 5 che a differenza della Xiaomi Mi Band 5 possiede il supporto ad Alexa e anche il sensore SPO2 Quindi delle novità che ci aspettavamo tantissimo su questa Mi Band 5 ma che di fatto potrebbero far di questa Amazfit Band 5 La vera e degna erede della Mi Band 4 per appunto le novità integrate Comunque non perdiamoci in chiacchiere, facciamo partire la sigla e vediamo più nel dettaglio quale tra queste due conviene acquistare e perché Come ogni volta signori vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio il link al nostro canale DigitsDeals su Telegram Dove condividiamo giornalmente le migliori offerte che potete trovare sul web Grazie a questi coupon vi faremo risparmiare veramente tantissimi soldi e magari a fine anno con tutti quelli che sono fanzetti Ci scappavano una Playstation 5, un Xbox Series X oppure un PC da gaming Andiamo Dal punto di vista del design non cambia praticamente nulla tra questa Amazfit Band 5 e la Xiaomi Mi Band 5 Ma volendo essere scrupolosi nella costruzione si notano quattro piccole differenze Ovvero una forma del display leggermente più ovale, il microfono, il design del tasto home ovale anziché rotondo Il sensore SPO2 e la differenza nella distribuzione dei sensori Tuttavia ho provato a invertire i cinturini ed entrambi calzano molto bene nei panni dell'altro Quindi potrete acquistare anche gli stessi Le dimensioni infatti sono di 47.2 x 18.5 x 12,4 mm per un peso di 12 grammi L'Amazfit Band 5 ovviamente è impermeabile fino a 50 metri di profondità Consentendoci dunque di nuotarci e di registrare i nostri dati visto l'allenamento apposito Continuando il paragone con la Xiaomi, il display rimane un'ottima unità a colori da 1,1 pollice in HD Quindi 294 x 126 pixel sensibile al touch Il pannello è perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole Grazie ad una buona luminosità massima di 450 nits Ma in qualsiasi caso potremmo scegliere tra Band 5 intensità Personalmente a parità di livello devo dire che l'Amazfit mi è sembrato leggerissimamente più luminoso Ma per il resto troviamo le stesse ottime caratteristiche Tra cui la possibilità di scegliere tra più di 45 watch faces Tra animate e statiche La personalizzazione dell'Amazfit Band 5 è una caratteristica da non sottovalutare Perché cambiando cinturine e watch face sarete in grado di indossarla e adattarla a tutti i contesti Ovviamente rimane l'anima sportiva Ma ciò non toglie che possiamo magari abbinarla con un bel vestito Appunto con un cinturino magari elegante Inoltre le schermate di base devo dire che sono anche modulari Ovvero oltre all'orario potremo scegliere come impiegare gli altri due moduli del display Quindi se vedere i passi, il battito, le calorie e tanto altro ancora Visto che abbiamo introdotto alcune feature molto interessanti Credo sia il caso di continuare su questa linea e parlare più nel dettaglio del software Infatti entrambi hanno lo stesso firmware con quasi tutte le stesse funzionalità Ma UAMI ha deciso di fare un lavoro di fine e offrire alcune personalizzazioni grafiche nell'interfaccia Infatti osservando bene il menu si notano dei dettagli maggiormente curati sull'Amazfit E più in linea con gli altri prodotti della casa Sono presenti infatti più colori, più sfumature Delle immagini con meno spigoli e con più effetti di profondità E delle animazioni più belle esteticamente Come ad esempio quella della respirazione Per quanto riguarda le notifiche troviamo la stessa gestione della Mi Band 5 Ovvero potremo vederle tutte, leggere i messaggi e quant'altro Ma ovviamente non potremo rispondere Allo stesso modo non avendo uno speaker Non sarà possibile rispondere alle chiamate ma solo attaccare o silenziare E nemmeno ascoltare i messaggi audio Non ci aspettavamo diversamente visto il pannello così contenuto Per il resto troviamo tantissime funzioni utili Come il meteo, le note, la gestione della musica in riproduzione Il remote shutter per la fotocamera su smartphone E infine Alexa Devo dire che questa è stata la feature più attesa in assoluto Che purtroppo sulla Mi Band 5 non è arrivata Ma che sapientemente Amazfit ha voluto integrare all'interno del suo dispositivo Questo perché appunto è in grado di fare la differenza rispetto a tanti competitor Appena accesa comunque dovrete fare in modo che Alexa inizi a collaborare con il wearball Per questo motivo dovrete effettuare una configurazione Come si fa? Tranquilli, non vi preoccupateci Pensiamo noi Qui sotto in descrizione vi lascio il link alla guida Oppure potete vedere il video che vi lascio qui sopra Tranquilli e facilissimo E migliorerà notevolmente l'esperienza di utilizzo Con pochi semplici passi potrete portare l'assistente vocale di Amazon Sul vostro piccolo wearball E comandare i dispositivi smart in casa Chiedere traduzioni, impostare sveglie e conti alla rovescia Creare liste della spesa, note e promemoria Chiedere informazioni di vario genere Controllare il meteo e molto altro ancora Nonostante a schermo vi appaia qualche scritta in italiano La lingua supportata al momento è solamente l'inglese Quindi dovrete parlarci in inglese Ma non vi preoccupate signori Perché a breve arriverà un aggiornamento Che porterà la lingua italiana E quindi non avrete più la barriera linguistica Nonostante ciò Solitamente i comandi che impartiamo ad Alexa sono basici Quindi insomma con inglese basic ve la cavate Però se non lo masticate benissimo Tranquilli perché entro un mesetto se non vado errato Dovrebbe arrivare l'aggiornamento Passando al software per smartphone Come alcuni sapranno Amazfit ha fatto la migrazione Dall'omonima app all'app Zep Quindi sono stati apportati dei cambiamenti grafici E di alcune funzionalità Ma sostanzialmente parliamo del solito ottimo applicativo di Wami Che ci consentirà di effettuare moltissime operazioni Di personalizzazione e gestione dell'Amazfit Band 5 Oltre che monitorare nel dettaglio i nostri progressi Le attività e i vari dati Dal punto di vista del fitness invece troviamo Un altro grande punto a favore dell'Amazfit rispetto alla Xiaomi Ovvero il sensore SPO2 Di questo ne parleremo tra poco Nel frattempo facciamo un recap degli altri sensori e delle funzionalità Infatti a bordo troviamo un cardiofrequenzimetro Accelerometro a tre assi e giroscopio a tre assi Sensore per il rilevamento del sonno Mentre assente la connettività NFC Così come assente su tutti gli altri competitor Quindi Mi Band 5 inclusa Il sensore per il rilevamento del battito cardiaco può essere attivato 24-7 E sarà in grado di avvertirci in caso di anomalie E questo grazie al miglioramento del sistema proprietario BioTracker 2 PPG Inoltre ci sarà anche un monitoraggio dello stress E alcuni esercizi di respirazione Per alleviare i momenti più tesi Sempre utilissimi anche per la mindfulness Il cuore pulsante del monitoraggio del sonno tuttavia È il Somnuscare Ovvero il motore AI con algoritmi elaborati Che permettono una maggiore precisione nelle rilevazioni Monitorando anche i pisolini quotidiani da almeno 20 minuti O power nap come li chiamo io E è in grado anche di restituirci i dettagli sulla fase REM Nelle lunghe sessioni Non dimentichiamoci poi del supporto a WamiPi Ovvero Personal Activity Intelligence Ovvero un sistema facilitato Che ci fornirà una valutazione sul nostro stato di salute e di allenamento Infatti invece di analizzare le singole misurazioni Pi converte le informazioni raccolte dai vari sensori In un unico e semplice punteggio numerico Secondo gli studi condotti infatti Avere un valore Pi superiore a 100 Significa una probabilità minore di incappare in malattie cardiache Dal punto di vista dei test e della misurazione Dei dati raccolti Devo dire che i risultati sono praticamente identici Sono molto simili Per quanto riguarda il sonno c'è una leggera differenza Con una maggior precisione sull'Amazfit Mentre per passi, corsa eccetera eccetera Praticamente non noterete differenze Quindi devo dire che siamo lì Abbiamo degli ottimi risultati come dicevo Per la misurazione del battito cardiaco Per il monitoraggio del sonno Buoni per i passi Buoni per la corsa E per tutti gli altri sport Insomma si comporta in maniera egregia A proposito di sport Per entrambi a bordo ne troviamo ben 11 Ovvero corsa all'aperto Tapirulan, ciclette, camminata, ellittica, vocatore, yoga, salto con la corda, nuoto in piscina Tutti questi sono poi perfettamente adattabili anche per altri tipi di sport esterni Concludo questo aspetto dicendo che poter misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue È una feature di grande importanza E per così pochi euro di differenza Già solo questa può farci preferire l'Amazfit Band 5 rispetto alla Mi Band 5 Inoltre è presente anche il sistema di monitoraggio del ciclo mestruale per il pubblico femminile Arriviamo alla batteria sotto la scocca di entrambe Troviamo una batteria da 125 mAh Ovviamente l'Amazfit possiede più feature e quindi il consumo energetico è leggermente superiore rispetto alla Mi Band Ma nonostante ciò l'autonomia è ottima Infatti con luminosità a 4 quinti Monitoraggio del battito cardiaco sempre attivo Quindi una misurazione ogni 5 minuti Notifica raffica Utilizzo di Alexa Un'ora di attività settimanale Monitoraggio dello stress quotidiano sempre attivo E anche quello della qualità della respirazione durante il sonno Ho consumato circa il 10% al giorno Consentendomi di arrivare fino a circa 10 giorni di autonomia Con la Mi Band 5 riusciamo a risparmiare un po' più di batteria Visto che non sono presenti le funzioni di Alexa e SPO2 Quindi con le stesse modalità ma senza notifiche Ho consumato circa il 7% al giorno Facendomi arrivare circa a 14 giorni Insomma devo dire che l'Amazfit l'ho veramente messa sotto torchio Ma utilizzandola in maniera un po' più parsimoniosa È possibile arrivare senza troppi problemi ai 15 giorni Quindi per esempio togliendo il rilevamento del battito cardiaco 24-7 Che consuma veramente molto Ed eccoci arrivati alle conclusioni Quale acquisterei tra questi due? Allora prima di tutto partirei dal prezzo Perché l'Amazfit Band 5 è disponibile sullo store ufficiale italiano Con garanzia 24 mesi Spedizione dall'Italia in 24 ore a 45 euro Mentre la Mi Band 5 è disponibile ufficialmente in Italia di listino A 40 euro Insomma 5 euro di differenza sono veramente pochissimi Per questo motivo feature come il supporto ad Alexa O anche il sensore SPO2 sono priceless come direbbero Nel senso per 5 euro ragazzi la differenza è talmente poca Che conviene ovviamente comprare l'Amazfit Ma senza nemmeno pensarci Anche perché questa possiamo definirla Ovvero l'Amazfit Come la vera erede E il vero successore della Mi Band 4 Perché integra tutte quelle novità Tutte quelle funzionalità aggiuntive Che ci si aspettava dalla Mi Band 5 Ma che di fatto ci ha fatto rimanere un po' delusi Sì è sempre un ottimo dispositivo per carità Però ci aspettavamo qualcosa di più E questa è quel qualcosa di più Se invece volessimo tenere in considerazione lo street price della Mi Band 5 Allora questa è disponibile su GShopper E qui sotto vi lascio il link all'acquisto Con coupon che la porta a 28 euro Quindi è disponibile a 28 euro Nonostante tutto sì è un buon prezzo Però se dovessi fare un upgrade dalla Mi Band 2, 3 o 4 Prenderei l'Amazfit Band 5 perché è più completa Devo dire che se volete fare 30 A suo punto fate 31 E prende direttamente questa Perché alla fine sono 15 euro di differenza Che su un prezzo sotto i 50 euro Può fare sicuramente la differenza Ma con questa avete sicuramente maggior completezza E insomma più funzionalità Secondo me sta tutto qui Anche perché ad oggi È quella con il rapporto qualità prezzo migliore Ovviamente l'Amazfit E nulla giovanotti Che altro aggiungere? Vorrei sapere invece le vostre di impressioni Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate di queste due E quale tra le due preferireste? Quindi fatemi sapere qui sotto in descrizione Lasciate un bel like Per supportarci Per noi è veramente importante Vi ricordo che in descrizione trovate il link Alla recensione testuale di entrambe E anche del confronto E quindi potete farvi un'idea migliore E tra l'altro vi lascio anche tutti i vari dati Le misurazioni dei test effettuati con queste due Sempre nella recensione testuale Ciao a tutti da Leonardo DovergistChina.it